Oggi è stata una giornata particolare per due grandi e trafficatissime città come Roma e Milano attraversate nel centro in pratica soltanto da pedoni e soprattutto da biciclette non solo per l'eccesso di polveri sottili, il blocco delle automobili ma anche per dare spazio a questo movimento dei ciclisti a delle competizioni come la Gran Fondo Campagnolo che questa mattina per esempio per quanto riguarda Roma è partita dalle terme di Caracalla ma anche i pedoni si sono messi in movimento e hanno goduto della città vuota dalle automobili nella giornata cosiddetta del camminare Allora la mobilità sostenibile è un tema comunque molto forte per parlarne con noi in studio c'è Flor Mujar Jovanovic portavoce della rete Salva Ciclisti e allora sicuramente per Roma ma anche per Milano è stato un grande successo sta crescendo sempre più il movimento di chi sceglie le due ruote Infatti penso che la giornata di oggi è un po' il segnale di questo cambiamento permette di immaginare soprattutto cosa sarebbe una città senza auto non dominate dalle otto dove il cittadino è libero di muoversi a piedi in bicicletta ma anche con i mezzi di trasporto Penso che riflette infatti un grosso cambiamento che sta avvenendo nel paese ci sono sempre più cittadini che lasciano la macchina in casa e che decidono di muoversi con la bicicletta perché la bicicletta oltre ad essere il mezzo sostenibile per eccellenza è anche un mezzo veloce e ci sono gare di velocità che lo comprovano a parità di un contesto urbano la bicicletta freccia più veloce perché la macchina ormai è bloccata nel traffico Ecco ma questo esperimento in realtà non riguarda giornate come quella di oggi di questa domenica si sceglie sempre di più la bicicletta come sono attrezzate ad un occhio da specialista diciamo così città come Roma e Milano ci sono per esempio abbastanza ciclabili? Allora prima di tutto sono aumentati i cittadini che vanno in bicicletta perché è evidente che la bicicletta è la risposta alla crisi sono più di triplicato in meno di dieci anni e l'anno scorso le vendite di bicicletta hanno anzi superato le vendite di macchine per comprovare che veramente la bicicletta è una possibilità evidente, naturale però purtroppo ancora la politica e i governi locali non hanno capito non hanno dato le risposte che esigono i cittadini cioè costruire una rete ciclabile perché purtroppo nel traffico si muore troppo ancora e salva ciclisti richiede sicurezza per i ciclisti e soprattutto desincitivare l'aiuto alla macchina e cambiare modelli di sviluppo fare crescere la bicicletta soprattutto in un paese come l'Italia dove la bicicletta è una tradizione e l'Italia è il primo produttore di biciclette in Europa purtroppo solo al quarto posto delle vendite e bisognerebbe che il governo, lo Stato e i governi locali come abbiamo richiesto agli stati generali della bicicletta recentemente tenutosi a Reggio si impegnino a cambiare la strada ma dalla sua nascita richiede un impegno urbanistico delle strade già disegnate per la bicicletta soprattutto delle misure immediate come moderare il traffico si può abbassare immediatamente il traffico al limite di 30 km ore e in questo si possono evitare vittime troppo numerose ancora come dicevo abbassare il rumore, la rumorosità delle nostre città e renderle più vivibili per tutti perché badate che la bicicletta non è un mezzo così diciamo da fanatici è proprio un mezzo che permette di trasformare la città per tutti per i pedoni, per i bambini penso in particolare che permette di creare delle strade dove giocano i bambini è un spazio per anziani e donne che spesso sono emarginate da una città dove dominano solo macchine ancora troppo veloce troppo violente che non badano all'altro in generale la bicicletta è un po' un cambiamento culturale in atto nel paese e sicuramente noi dobbiamo riflettere a questo cambiamento culturale in atto ecco, voi avete come rete salvaciclisti appunto organizzato diverse manifestazioni estemporanee appunto le cosiddette flash mob proprio per attirare l'attenzione sulla questione della sicurezza per i ciclisti sì, perché come diceva bene lei prima non ci sono abbastanza piste ciclabili anche nelle grandi città sono interrotte da scale qualche volta anche da altre strade gli incroci non sono sicurizzati e ci sono troppi incidenti ancora ricordo che in Italia sono morti più di 250 ciclisti in meno di 10 anni che è il doppio del Regno Unito dunque noi come movimento infatti siamo nati come un'esigenza nuova di cittadini siamo un movimento dal basso come si dice un nuovo attivismo non c'è solo noi di salvaciclisti ci sono tante associazioni tante realtà nuove come le cicloficine ma anche le critical mass e tanti attivismo nuovo che fa vedere che i cittadini si vogliono riconquistare della strada come bene comune di renderla un luogo dove si può camminare, respirare, parlarsi senza essere interrotto cosa sono le cicloficine? le cicloficine è un luogo dove uno si iscrive può riparare gratuitamente la sua bicicletta ce ne sono per tutta l'Italia sono anche loro in numero crescente ed è un luogo di aggregazione, di convivialità ma anche che permette di dare voglia a tutti i nuovi ciclisti che esistono ma forse hanno ancora paura di andare sulla strada di dargli la possibilità di farlo ecco, la città come Roma non è una città perfettamente in piano dunque la vita per i ciclisti è un po' più dura rispetto ad altre città però per esempio lei è francese siamo riusciti ad importare abbastanza l'esempio francese del noleggio delle biciclette Roma è all'ultimo posto delle città italiane in termini di ciclabilità dunque è un cattivo esempio ed è un po' truccato farmi questa domanda no, senza fare alcuni nazionalismi penso che ci sono tante città anche in Italia che sono degli esempi di ciclabilità riuscita c'è Reggio Emilia che ha appena tenuto i stati generali ma c'è anche Bolsano, Ferrara che hanno appena deliberato in comune questa idea di abbassare di ridurre la velocità del centro delle città e in queste città si va in macchina in 12 minuti si può andare da un posto all'altro in macchina anche Parigi per esempio con il bike sharing e il Vélib ha reso la città più accessibile in realtà bisogna sfatare il mito che la bicicletta è un mezzo lento in città la bicicletta va più veloce e permette ai cittadini di andare anche al lavoro più velocemente e mantenersi più in salute e in salute e con un benessere psicosociale anche perché notate che ai semafori la bicicletta non è il posto di incontro nuovo Marco G il grande antropologo aveva descritto benissimo che la bicicletta era un luogo di riscoperta dell'altro permette convivenza e riappropriazione della strada ma l'aveva già scritto Ivan Illich 40 anni fa per dire che l'Italia purtroppo è molto in ritardo su questo fronte e poi c'è chi coraggiosamente porta anche i bambini a scuola invece in bicicletta ci sono sempre più donne che vanno in bicicletta perché non ha senso infatti portare il bambino in macchina ci sono sempre più persone che vanno al lavoro in bicicletta come dicevo sono triplicati i ciclisti dunque è il segno che la gente ha voglia di riprendere un nuovo mezzo urbano e poter spostarsi liberamente un'ultima domanda quali sono le città più virtuose ovviamente abbiamo parlato di Parigi pensiamo alla Francia ma anche all'Olanda Belgio allora a livello europeo ovviamente Amsterdam è il paradiso dei ciclisti però non crediamo che 40 anni fa Amsterdam era un luogo ancora mortale per i ciclisti non era il paradiso che è diventato lo è diventato per delle scelte politiche chiare degli incentivi la costruzione di una rete ciclabile continua e poi tutto quello che dovrebbe esistere i parcheggi per la bicicletta nei condomini sul lavoro dei luoghi diciamo diversi delle strade costruite in modo diverso e soprattutto come dicevo una richiesta principale degli stati generali della bicicletta è abbassare e moderare il traffico allora resti con noi perché mandiamo in onda invece passiamo dalle biciclette ad una sorta di mostro possiamo definire così in mezzo alla strada nel senso che abbiamo l'abitudine di vederlo fa la portavoce della rete salva ciclisti vedere l'endeva faccio una battuta ma mi ha fatto l'effetto di vedere la prossima il destino della macchina fra 10 anni 20 anni porteremo una macchina sui fori imperiali con questo ricordo come un museo perché lo sta diventando sta diventando superata perché la crisi in qualche modo nel mercato dell'automobile la crisi sicuramente no perché non costa nessun tipo di benzina e chiaramente la risposta alla crisi la bicicletta tutti gli esperti della green economy l'avevano già detto vent'anni fa si uscirà dalla crisi con la bicicletta se si guarda anche alle vendite e il futuro settore di crescita dell'economia la bicicletta e dunque sì questa immagine mi fa sorridere in effetti come dire aveva c'era un tratto ironico neanche troppo sottile appunto nel vederlo in queste strade questo dunque conforta però i made in Italy perché appunto come ci confermava l'industria della bicicletta italiana è comunque leader per quanto riguarda il mercato europeo allora speriamo che vada così quando passerà l'ultimo automobile nelle strade dei fori imperiali come lei si auspica non avremo da sladicare neanche alberi allora grazie a Flor Murar Giovanovich grazie per essere stata con noi allora spazio rapidamente alla regia poi di nuovo in diretta con altre notizie grazie a te